In occasione della nuova rassegna Primavera in Floridiana, che prevedrà fino a giugno oltre 30 appuntamenti nel Museo Duca di Martina e nel Parco del Vomero, con la scienza, la musica, la salute, la danza, la botanica, le antiche discipline orientali, per la prima volta il Polo Museale della Campania, diretto da Anna Imponente, ha aderito al Campus Salute. Nel corso dei tre giorni di questa edizione dedicata alle donne è stato possibile svolgere visite mediche gratuite. Numerose le specialiste e gli specialisti che hanno effettuato visite alla tiroide, di endocrinologia, di senologia, di cardiologia e di ginecologia. Soddisfatta la professoressa Anna Maria Colau, ai nostri microfoni sottolinea l'importanza della prevenzione. Beh sì, abbiamo fatto questa iniziativa con la direttrice Ambrosio della Floridiana, proprio perché questo è un parco bellissimo nel cuore del Vomero, seguito da tante famiglie, da tante signore, abbiamo voluto portare un po' di salute alle donne in questo mese dedicato alla donna. Quindi ci sarà la possibilità di una visita ginecologica, della senologia, la prevenzione delle malattie della tiroide, oggi la cardiologia, domani ci sarà invece la possibilità di fare delle indagini per la funzione renale. E cerchiamo di fare un po' come al nostro solito, un po' di iniziazione alla salute. Già la direttrice ci ha chiesto di restare qui anche per l'anno prossimo, stiamo programmando un po' di attività. Insomma, il nostro tempo è dedicato agli altri, alla prevenzione.